Cyberbullismo. Il Corecom Piemonte, il garante nazionale per la privacy, firmano a Palazzo Lascaris un protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno. Il Piemonte ha avuto un vantaggio incredibile, è passata la legge 71 sul cyberbullismo nel 2017, successivamente è arrivata la legge numero 2 di febbraio 2018 che riconosce al Corecom un ruolo particolare all'interno della regione per la tutela dei diritti dei minori online. Quindi il coordinamento sul cyberbullismo. Il Corecom Piemonte ha voluto fare un passo in più, ha trovato un accordo direttamente col garante per la protezione dei dati nazionali, ho firmato personalmente un accordo con Antonello Soro, un accordo che ci consente di diventare l'organo preposto sul territorio a favore del garante. E Antonello Soro, garante della privacy, nella lettera di saluto inviata ha sottolineato che sono troppi e troppo laceranti i casi nei quali la rete, in particolare i social network, da spazi di libertà e democrazia degenerano in pericolosissimi canali di amplificazione della violenza, in danno dei soggetti più fragili. Il lavoro che ci apprestiamo a svolgere insieme rappresenta un contributo fondamentale per consentire ai minori di usufruire delle straordinarie opportunità offerte dalla rete, proteggendo al contempo la loro dignità. I contenuti dell'intesa, illustrati dal vicepresidente del Corecom Gianluca Nargiso, prevedono l'impegno a veicolare verso il sito del garante le eventuali segnalazioni o reclami e sensibilizzare altri Corecom a intraprendere iniziative simili. In cinque anni abbiamo lavorato per tutelare la dignità delle persone, in particolare dei giovani, e della qualità della vita, ha affermato in conclusione il presidente del Consiglio regionale Nino Boeti, un compito che abbiamo portato avanti anche grazie al ruolo del Corecom, la nostra legge che oggi entra in una dimensione nazionale e esempio del grande lavoro fatto. Ogni segnalazione di episodi di cyberbullismo può essere fatta compilando il modulo reperibile sul sito ufficiale del Consiglio regionale del Piemonte e può essere inviata per posta via fax o all'indirizzo mail sopraindicato oppure consegnato a mano agli uffici del Corecom.